Ciao a tutti, popolo del tubo, bentornati in un nuovo video, oggi siamo in un test map per pc e per console siamo sulla Ober Rebac, o una cosa del genere comunque, il titolo leggete sotto è una mappa che è uscita da poco, è una mappa su cui ho letto molti commenti positivi in giro per i vari gruppi facebook che riguardano farming soprattutto dagli utenti console, dicono che la mappa occupa pochi slot, molto leggera e carina e quindi Robby non poteva non venire a dare un'occhiata vi dico subito che se siete quelli che cercate le mappe che devono avere tutto da zero, che uno vuole costruire tutto da zero non è la mappa che fa per voi, perché qualsiasi difficoltà voi scegliate avete già tutta la farm bella che è pronta non ci sono edifici o stalle in più, è tutto di default quando andate ad acquistare appunto le stalle, gli edifici, i silos e cose varie e buon, cominciamo, ovviamente la mappa essendo su console è standard, non è multifruit come vedete la morfologia offre mi sembra una ventina di campi, eccolo qua e qualche pezzettino forestale, qualche campo per fare l'erba questa mappa qua secondo me è ottima da giocare da soli, è una mappa da single se volete passare un po' di ore in tranquillità senza sforzarvi troppo perché 20 campi volendo, anche se te compri tutta la mappa, anche da solo ci stai dietro, insomma abbastanza bene andiamo a vedere il farmland, il farmland è suddiviso appunto come vedete a zone di farm la zona di farm contiene tutti, tre campi d'erba, v1, v2, v3 e dicevo è divisa in zona farm e quindi campi d'erba è divisa in zona forestale che è questa qua giù e poi è divisa in campi, come potete vedere il farmland è fatto abbastanza bene non possiamo dirgli nulla a questo farmland, soprattutto non c'è nemmeno il fastidioso problema che quando cliccate all'esterno vi compra la mappa quindi soddisfattissimo anche dal farmland i punti vendita come vedete sono 6 quindi ci può stare anche un minimo di concorrenza tra i prezzi quindi va bene anche questo e andiamo un po' a vedere il tutto, come è strutturata la farm questa è la vostra casetta dove voi iniziate il gioco e dove voi farete le vostre ninnette la notte se volete ninnare, altrimenti potete anche lavorare nessuno vi dice niente qua dentro è un capanno per gli attrezzi qua dietro qua abbiamo l'officina che è quella del gioco, è per quello che occupa pochi slot questa mappa anche sul console, c'ha quasi tutte cosettine di default qui c'è il cosino per il carburante qui potete rifornirvi di carburante per quanto riguarda il silos, questo è il silos principale della farm guardate che carino però che carine queste ambientazioni, questi capannoni aggiuntivi qui ragazzi abbiamo il recinto per le galline che è quello standard qua dietro ragazzi c'è la stalla degli ovini qui ragazzi oltre questo cancelletto abbiamo la zona in farm per quanto riguarda maiali e mucche la prima parte questa qui è tutta dedicata ai maialozzi mentre ragazzi qua su, fatta questa salitella qui troviamo la stalla delle muccozze ecco qua ragazzi, maialozzi e muccozze quindi ci avete tutto qua sopra ragazzi e voilà, non vi potete sbagliare guardate che belle distese e questa è tutta la prima zona della farm andiamo adesso dentro al paese questa ragazzi è la zona del dentro paese così vi faccio vedere per bene tutto, tutto, tutto il panorama e poi voi deciderete se scaricarla o meno ragazzi andando avanti per questa strada troviamo un distributore di benzina sulla nostra sinistra eccolo qua eccolo qui e sempre sulla nostra sinistra troviamo lo shop lo shop è quello della Fersburn mi sembra né più né meno comunque vabbè è una Fersburn più piccola un po' rivisitata secondo me questa mappina ma comunque ha le sue funzionalità insomma è utile, è carina qui ragazzi abbiamo un altro punto vendita preso pari pari dalla Fersburn eccolo qua andando giù abbiamo un altro punto vendita vediamo un po' mi sa che anche questo è preso pari pari dalla Fersburn eccolo qua del resto ragazzi se volete le mappe leggere ci devono avere più cose possibili delle mappe standard quindi infatti è leggerissima ragazzi gli FPS perlomeno su PC vanno veramente alla grande davanti al campo 10 abbiamo un altro punto vendita preso pari pari dalla Fersburn e andando giù ragazzi andiamo verso un altro punto di scarico che è questo qua che è il fienile dove potete vendere appunto erba, paglia eccetera eccetera e insieme al fienile come vedete questa è una cosetta carina ci hanno messo, hanno simulato che il fienile è un allevamento di cavalli quindi qui potete comprare i vostri bei cavalletti di fronte al campo 16 entriamo in una strada sterrata ragazzi ed entriamo nella segheria anche questa è standard proprio del gioco della Fersburn qui vendete i tronchi e qui vendete il cippato davanti a questo splendido laghetto nella parte in basso a destra della mappa ci troviamo un altro punto di scarico anche questo mi sembra preso dalla Fersburn eccolo qua Agrile B eccolo qui e successivamente troviamo anche un punto per la ricarica della calce e infine ragazzi nella parte in alto a destra della mappa vicino al campo 4 abbiamo il negozio d'animali anche questo standard preso pari 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 dalla mappa originale eccolo qua né più né meno insomma con le stesse funzionalità ecco qua questo è il trigger per gli animalozzi sotto il campo 1 ragazzi abbiamo il biogas e indovinate un po' pure il biogas è quello della Fersburn pari 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 identico 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 e chiudiamo come al solito con la zona forestale ragazzi la zona forestale che anche qui ovviamente non manca e si trova proprio alle spalle della segheria ragazzi eccola qua zona forestale in cui vi potete divertire a tagliare tutti i vostri alberozzi allora ragazzi le mie considerazioni finali sono che questa mappa è una mappa nella sufficienza insomma tutta questa esaltazione io sinceramente non la vedo però i gusti sono gusti e io rispetto sempre tutti insomma è giusto che io vi dica la mia opinione è una mappa che praticamente è la Fersburn hanno preso la Fersburn l'hanno fatta a pezzettini e l'hanno ricomposta a modo loro però insomma non vedo cose particolari case particolari ambientazioni particolari modelli particolari e cose o funzioni che mi possano far dire che questa mappa è fantastica se invece cercate una mappa più piccolina della Fersburn ma che ne mantiene tutte le caratteristiche e soprattutto che occupi pochi slot eccetera eccetera questa è la mappa giusta per voi per chi magari cerca qualcosa di diverso qualcosa di più lavorato beh direi di cercare altro vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social il link è per comprare i giochini scontati di System Gaming e per fare una piccola donazione al canale o per diventare abbonati con i relativi vantaggi e Twitch, Discord eccetera eccetera noi ragazzi ci vediamo al prossimo video ciao